Ridicolissimi Cambi di casacca, alleanze interessate alla spartizione e non al programma, colpi di scena ridicolizzano la massima istituzione regionale. Vincenzo Cotugno è stato eletto presidente dell'Assemblea con un consenso quasi unanime. Il suo vice sarà Filippo Monaco che aveva già ricoperto l'incarico per conto delle minoranze e adesso è traslocato nella coalizione di frattura. Ma Francesco Totaro sbatte la porta. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Il presidente del Consiglio è stato eletto in rappresentanza del centro-sinistra dopo che all'inizio della legislatura con la complicità dello stesso centro-sinistra venne eletto nello stesso incarico ma per conto delle minoranze. Salvatore Micone, eletto con la lista Grande Sud collegata a Michele Iorio, dichiara a sorpresa e all'insaputa del centro-destra fedeltà eterna a Paolo Frattura. Michele Iorio lo bacchetta in aula ma Salvatore Micone in cambio incassa la presidenza della seconda commissione. Francesco Totaro dopo aver proposto Vincenzo Cotugno alla presidenza del Consiglio in nome e per conto di tutta la maggioranza viene punito da Paolo Frattura forse per la sua vicinanza politica. a ruta e leva perde la presidenza della prima commissione passata a Domenico Dinunzio, a sua volta trombato dall'ufficio di presidenza, sbatte la porta e dichiara di non partecipare al voto per la spartizione degli incarichi in quanto, ha detto Totaro, l'allargamento della maggioranza non scaturisce da una condivisione del programma elettorale ma solo da una decisione monocratica di Paolo Frattura. Ma non finisce qui. Michele Iorio, forse d'intesa con Aldo Patriciello, dichiara in aula il voto favorevole di tutto il centro-destra per Vincenzo Cotugno, il quale viene eletto Presidente del Consiglio con 19 voti. I restanti due del Movimento 5 Stelle che non partecipano alla spartizione dei pane e dei pesci vanno ad Antonio Federico. Al termine dei lavori e dopo un lungo braccio di ferro tra Domenico Dinunzio, estromesso dall'ufficio di presidenza e i fedelissimi di Paolo Frattura, gli incarichi istituzionali da qui al termine della legislatura sono stati così spartiti. Ufficio di presidenza, Vincenzo Cotugno presidente, Filippo Monaco e Nicola Cavaliere vicepresidenti, Carmelo Parpiglia e Giuseppe Sabusco, segretari, le presidenze delle quattro commissioni permanenti sono state assegnate rispettivamente a Domenico Dinunzio, Salvatore Micone, Salvatore Ciocca e Nunzia Lattanzio. E sulla scelta di Micone è intervenuto a muso duro il Presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, che aveva sostenuto il consigliere di Grande Sud nell'ultima campagna elettorale. Salvatore Micone ha scoperto di essere di sinistra solo ieri dopo essere stato eletto con i voti del centrodestra e il sostegno di altre persone. Invece Micone, ha dichiarato De Matteis, si è trasferito armi e bagagli nella maggioranza di Frattura. La scelta è incomprensibile, a mio avviso, ha aggiunto De Matteis, totalmente irresponsabile. Tradire la fiducia degli elettori per interessi personali e giustificare tale scelta come un gesto di responsabilità forte mi fa sorridere e ha concluso De Matteis, a mio avviso si tratta di palese mancanza di dignità e di etica politica. Cambiamo argomento, la cronaca, palti decisi a tavolino, mazzette a funzionari della pubblica amministrazione sono le ipotesi sulle quali lavora la Procura della Repubblica di Sernia che ha messo nel mirino un giro di gare pubbliche. Oggi in tribunale l'esito dell'operazione condotta dai ROS dei Carabinieri. Operazione Larus, ovvero Gabbiano, questo è il nome dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Sernia e dei ROS del Molise sul fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione. Tre le misure cautelari richieste dal procuratore Albano e dal suo sostituto Scioli e accolte dal GIP 40. Giuseppe Favellato, imprenditore titolare della Edilmoviter, è finito agli arresti domiciliari dopo essere passato per la caserma dei Carabinieri di Isernia alle prime ore di questa mattina. Le altre due misure e un anno di sospensione dal lavoro hanno colpito il dirigente del settore ambiente del comune di Isernia, Roberto Bucci, e il responsabile della rete idrica del consorzio industriale di Pozzilli, Pasquale Carruolo. Il sistema, secondo ROS e Procura, funzionava così. Giuseppe Favellato, come titolare della sua impresa, offriva chiavi in mano ai due dipendenti pubblici le modalità operative per realizzare gli appalti, escludendo così le imprese concorrenti. Ma per fare proprio un esempio, vediamo il filmato dei ROS, realizzato con micro telecamere e micro spie, dove si sentono chiaramente le voci dei protagonisti che si mettono d'accordo sulla gara d'appalto per il trasporto pubblico di Isernia, gli autobus urbani, vinto poi proprio dall'impresa di Giuseppe Favellato per un importo di 6 milioni di euro per 5 anni. Perché a me quello là sotto, quello dell'Aia, questo è un bar, l'altro, ve lo tenete a modellare voi, come sono le cose vostre, voi sapete l'azienda vostra, poi ve lo modificate, fate il controllo, se siete attaccati, ma voi sapete che siete forti. A me non mi può mettere 40 punti, 5 per le sistemazioni delle pensiline, quantità di punti contraria, 5 punti per gli autobus e 40 per le pensiline, o no? Se tu invece punti un po' in forma necologica, ci metti quello che diciamo. Esatto, esatto, lui ha detto allora ti devi modificare il bando in base alle tue esigenze. Per questo appalto la procura afferma che la tangente sarebbe stata data attraverso un versamento di 4 mila euro nelle casse della Proloco di Isernia di cui il Bucci era presidente. Al consorzio invece Pasquale Carruolo è accusato di aver falsamente attestato la somma urgenza per far effettuare alla ditta di Giuseppe Favellato svariati lavori di riparazione per importi mai superiori a 50 mila euro, in modo da usare l'affidamento diretto. Due casi emblematici di corruzione, ha detto Albano, che aprono scenari inquietanti senza dimenticare che sempre la procura di Isernia, questa volta con la Guardia di Finanza, sta seguendo contemporaneamente un altro filone altrettanto importante, quello degli appalti dei comuni per la difesa a suolo, dove ci sarebbero ben 150 indagati. Insomma, quello di oggi potrebbe essere stato solo l'antipasto. Anche purtroppo a Isernia è emerso come ci possa essere un totale asservimento di pubblici ufficiali e quelle che sono le richieste di imprenditori e quindi purtroppo anche qui la corruzione ha cominciato a diffondersi ed è alla luce di tutte le indagini molto professionalmente portate avanti dal ROS sono emersi due casi di corruzione grave perché, ripeto, i pubblici ufficiali erano totalmente asserviti ai voleri di un imprenditore titolare di una ditta quale è l'Edil Moviter che non avrebbe mai potuto vincere, ad esempio, l'appalto per un trasporto pubblico urbano e che invece ha predisposto, ha preordinato, ha programmato il bando di gare in modo da poter vincere la gara. Perché l'intervento dei ROS da Roma su un'operazione molto importante? Perché è così importante? Perché ricorre nelle nostre metodologie investigative le sezioni anticrimine, i reparti anticrimine che sono dislocati sul territorio nazionale ricevono sempre il supporto dal centro, un supporto analitico e tecnico. È un caso emblematico di corruzione questo per la cronaca nazionale anche? È un caso di corruzione importante che testimonia come in un piccolo centro possano essere utilizzati gli stessi strumenti dei grandi centri per aggirare i controlli sugli appalti pubblici. La signora Cerio è stata reintegrata nel possesso dell'appartamento ubicato a pian terreno della villa del presidente Frattura a Termoli. Lo ha stabilito il tribunale di Larino in composizione collegiale nelle persone dei giudici turco, Dagnone e Guariniello. A comunicarlo gli avvocati della signora Cerio, Massimo Romano e Bruno Corsi. I giudici frentani quindi hanno rigettato il reclamo perché infondato, proposto dalla PST Village, condannando la società al pagamento delle spese legali. La signora Cerio dunque è stata ritenuta titolare di un regolare contratto di locazione dell'appartamento. E' una donna morta per un'accidentale caduta dalle scale. L'incidente è avvenuto in casa dove la 49enne viveva con il compagno. L'episodio è accaduto a Busso. Sentiamo Giovanni di Tota. In primavera avrebbero dovuto sposarsi. Gabriella, arrivata dalla Romania come tante sue connazionali, a Busso aveva trovato lavoro come badante. Poi anche l'amore. A 49 anni la sua vita avrebbe avuto una nuova svolta, ma un destino beffardo le ha voltato le spalle all'improvviso. E la sua vita si è spezzata in fondo a una scala a chiocciola nella casa in cui avrebbe vissuto con il suo futuro marito. Un incidente domestico, secondo la ricostruzione che viene considerata probabile dagli investigatori, perché come avviene in casi di questo tipo, sull'accaduto sarà il magistrato a mettere sul fascicolo la parola fine. In contrada Pescola Corte, Gabriella stava chiacchierando con il suo compagno all'esterno della loro casa. Lei è entrata e non è più tornata indietro. Quando il suo futuro sposo non l'ha più vista tornare e è andato a cercarla, lei era già riversa senza vita in fondo a quei gradini, con il collo spezzato e un braccio fratturato. Un incidente drammatico, sconvolgente. Tutti in paese conoscono quella coppia che aveva vissuto in un appartamento in piazza, poi si era trasferita in campagna. Tutti ne ricordano l'affiatamento, i dubbi sull'accaduto sono solo legati alla procedura burocratica. Ovunque, ma non a busso, dove parlare di morte dopo una caduta dalle scale, ha fatto riportare indietro le lancette all'inverno del 2000. In una palazzina all'ingresso del paese un uomo stava sistemando gli insaccati nella soffitta di casa sua. Una scivolata improvvisa e quell'uomo cadde dalla scala e finì su alcune tegole accatastate, procurandosi una profonda ferita al collo. Crollò esanime in fondo alla rampa della scalinata interna che arrivava alla soffitta. Il medico che vide il corpo di quell'uomo considerò compatibili le ferite con una caduta accidentale e il caso fu archiviato come incidente domestico. Quell'uomo si chiamava Emilio Sepede. Sulla caduta accidentale dalla scala a chiocciola costata la vita la povera Gabriela ha soffiato solo per un attimo il ricordo di quel duplice e ferato omicidio che a busso nessuno ha mai dimenticato. E intanto il sostituto procuratore di Campobasso Colagreco ha ordinato l'autopsia sul corpo della donna e il caso è seguito dai carabinieri di Baranello. Questa notte i gnoti hanno tentato di rubare nella postazione del ripetitore di Telemolise a Monte Patalecchia. I balordi hanno danneggiato la struttura, rotto i muri e la porta, preso di mire e derubata anche la postazione del ripetitore Mediaset Rionero. Controllano le forze dell'ordine e la vigilanza, si indaga per risalire agli autori. Il sindaco di San Giuliano di Puglia ha chiesto al governo un contributo straordinario di 35 milioni di euro per pagare il risarcimento alle famiglie delle vittime del crollo della Iovine. Senza lo stanziamento si andrà incontro al dissesto finanziario, ha detto il sindaco. Sono arrivate le prime sentenze del Tribunale Civile di Campobasso che riconoscono 320 mila euro per ogni genitore delle vittime del crollo della Iovine e 160 mila euro per ogni fratello o sorella. Finora il risarcimento è stato riconosciuto a 18 famiglie, ma presto il giudice si esprimerà su tutti, anche sui sopravvissuti. Secondo le stime, una cifra che in totale si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro. Sono stati condannati a pagare i 5 già ritenuti responsabili del crollo della scuola, e cioè il responsabile dell'ufficio tecnico del comune Mario Marinaro, il progettista e direttore dei lavori Giuseppe Laserra, il sindaco di alloro Antonio Borrelli che nel crollo ha perso una figlia, e gli imprenditori Giovanni Martino e Carmine Abiuso, oltre che il comune di San Giuliano di Puglia, ritenuto insolido responsabile civile. Quest'ultimo ha già avviato le cause per il recupero dei soldi, ma già è evidente che i condannati non possono far fronte a quella cifra, che necessariamente ricadrà esclusivamente sul comune. Ma il comune quei soldi non ce li ha. Già non li aveva con le provvisionali, ovvero gli anticipi dei risarcimento, pari a 12 milioni di euro, e che sono stati in parte pagati solo grazie a un prestito della regione che comunque non si potrà onorare. E' per questo che il sindaco Luigi Barbieri, con una lettera inviata al capo dello Stato, al presidente del Consiglio e ai ministeri, chiede l'intervento del governo con un contributo straordinario di 35 milioni di euro. Lo Stato non può abbandonare un piccolo comune. Lo Stato è stato vicino a San Giuliano, ci ha fatto ricostruire il paese, ha stanziato i fondi anche per la ricostruzione nel resto dei comuni e non può adesso abbandonare San Giuliano. Tra l'altro lo Stato è intervenuto in altre tragedie con degli stanziamenti, faccio l'esempio di Viareggio, dove credo c'era meno attinenza, perché lì ci fu un treno che causò una grave tragedia. Da noi i bambini andavano in una scuola pubblica dell'obbligo. Senza il contributo il comune andrà incontro al dissesto finanziario e per far fronte a tutto sarà necessario mettere in vendita i beni stessi che lo Stato aveva fornito alla comunità dopo il terremoto. Si tratta del villaggio provvisorio, stimato 20 milioni di euro, la piscina 5 milioni, il palazzetto dello sport, il centro anziani, il museo. Ma chi comprerebbe all'asta queste strutture? Insomma, secondo il sindaco, si è di fronte a un paradosso. Un mancato intervento dello Stato e quindi una condanna solo del comune, perché gli altri cinque condannati non provvedono a pagare i risarcimenti, sarebbe la condanna della stessa comunità che ha già subito il danno della perdita grave dei bambini e quindi di un'intera generazione che si troverebbe a dover pagare anche i risarcimenti a se stessa. E intanto sono stati autorizzati i lavori sul villaggio temporaneo di San Giuliano di Puglia da trasformare in centro hub per l'accoglienza di famiglie e di immigrati. Lo ha confermato il sindaco Luigi Barbieri. Predisposto il bando per gli interventi di adeguamento che dovranno essere effettuati nelle casette di legno e per la fine del 2016 dovrebbero arrivare i primi stranieri, non più di 500 persone. La convenzione con il Ministero dell'Interno e Prefettura, ha detto Barbieri, è stata sottoscritta ed aggiornata ed è arrivato l'ok definitivo per i lavori di sistemazione. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, si provvederà a fare la gara d'appalto per la sistemazione materiale e dopo i lavori di ristrutturazione si farà la gara per l'affidamento dei servizi di accoglienza. E a proposito di immigrati, è stato presentato alla provincia di Campobasso il dossier statistico sull'immigrazione. In aumento il numero dei migranti, una situazione che pone il Molise tra le regioni che in percentuale ne ospita il numero maggiore. Anna Maria Di Matteo. Il tema dell'immigrazione resta di strettissima attualità e dunque la presentazione del dossier statistico 2015 sul fenomeno rappresenta un momento di approfondimento e di analisi su quanto accade in Italia e nella nostra regione che vive molto da vicino il problema. Nell'aula consigliare della provincia di Campobasso l'iniziativa, la presenza di rappresentanti istituzionali e delle associazioni in prima linea nell'accoglienza dei migranti. I dati riferiti al 2014 dicono che nello scorso anno gli stranieri regolarmente residenti in Molise sono aumentati di 532 unità, pari ad un più 5,2%, arrivando a 10.800, il 3,4% della popolazione. 7.884 in provincia di Campobasso, 2.916 in quella di Isernia. Gli immigrati che risiedono in Molise sono per la maggior parte romeni, seguiti dai polacchi, albanesi e ucraini. Numerosi anche i cittadini che arrivano dall'Africa, in particolare dal Marocco. Dopo la romena, quella marocchina è la seconda comunità insediata in Molise per consistenza numerica. Sicuramente ci attestiamo con un dato che è superiore ai 10.000 residenti e che in qualche modo stabilizza un trend che c'era stato anche negli anni passati, anche se in misura leggermente superiore e che in qualche modo però tiene fuori tutta l'area che è quella di maggiore evidenza, che è l'area dei richiedenti asilo. Il Molise è tra le regioni che in proporzione sta ospitando maggior numero di persone di immigrati. Perché secondo lei? Io credo, diciamo, da un lato rispetto anche a una tendenza alla cultura della solidarietà che c'è in questa regione. Teniamo conto che in realtà se poi noi andiamo a declinare il dato complessivo che registra un flusso nell'anno di 1.500 richiedenti asilo, 435 dei quali sono all'interno degli SPRAR e il resto all'interno delle accoglienze temporanee, in qualche modo registra anche un dato di forte protagonismo da parte delle prefetture locali. Ma noi siamo in grado di ospitarli, abbiamo le strutture per poterlo fare? Ma guardi, allora, se dobbiamo leggere i dati riferiti a, come dire, l'organizzazione del sistema, l'organizzazione del sistema è quella dello SPRAR e che ci dice che al momento sono 17 i comuni e gli enti locali che hanno accolto e che quindi hanno attrezzato un'accoglienza di tipo diffuso. Il resto è, diciamo, nato all'occorrenza, non nato sulla suggestione, non nato sull'emergenza. Una piccola regione che è diventata un microcosmo, un incrocio di culture e di etnie che è stato detto nel corso della presentazione del dossier, può rappresentare anche una risorsa. I sindacati CGL e UGL, considerato il mancato accordo con l'azienda, hanno proclamato lo sciopero di otto ore dei dipendenti dell'ATM per il 6 novembre. La motivazione è il mancato pagamento da parte della società di trasporto pubblico locale di tre mensilità, i sistematici ritardi nell'erogazione delle stesse e il dimezzamento di quella di agosto, l'unica che avrebbero dovuto ricevere. CGL e UGL hanno chiesto un incontro urgente con regioni ATM per trovare soluzioni immediate per i dipendenti dell'azienda che possano eventualmente scongiurare lo sciopero. E nuove opportunità da parte dell'Unione Europea per arricchire i curricula degli studenti sono offerte dal programma Erasmus Plus, tema al centro di un seminario organizzato dall'Istituto Superiore di Larino. Fabrizio Occhionero. Si chiama Erasmus Plus ed è il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. All'Istituto Superiore di Larino, docenti a confronto sulle opportunità previste da una piattaforma che arricchisce il bagaglio culturale degli studenti e mette in relazione gli operatori con le realtà di altri paesi. Un seminario riuscito, grazie all'esperienza maturata in questi anni dal personale coinvolto, è una rete sempre più solida anche nelle aree considerate marginali, dove la scuola rappresenta ancora di più un punto di riferimento. Sono intervenuti tra gli altri i responsabili dell'ufficio scolastico regionale e dell'ufficio Europe Direct della provincia di Campobasso, esperti e docenti di numerosi istituti. È molto importante soprattutto per piccoli centri, piccole regioni come la nostra e hanno il vantaggio di porre i nostri studenti in relazione con i loro coetanei di altri paesi, i docenti in relazione con i loro colleghi di altre culture e di altri paesi e questo è un presupposto imprescindibile per favorire la reale capacità di saper interagire in contesti multiculturali. Nel corso del seminario non sono mancati dibattiti e collegamenti via Skype con altri istituti e realtà che hanno aderito al programma Erasmus Plus. Tra le attività previste dal progetto e finanziate dai fondi europei a Learino ci sono iniziative dedicate ai beni culturali con la sovrintendenza che comprendono anche la tecnologia, imprenditorialità e sviluppo con la Camera di Commercio e poi una seconda lingua straniera, lo spagnolo, che offre un ampio ventaglio di prospettive. Il progetto K2 che stiamo conducendo, siamo alla seconda annualità, ha diversi piani di azione e uno è lo sviluppo di una buona pratica con l'attivazione di un curriculum arricchito e personalizzato per cui oltre alle normali discipline del curriculum nazionale gli studenti che hanno aderito al progetto e sono 27. Abbiamo iniziato l'anno scorso e i ragazzi frequentavano il terzo liceo e adesso sono in quarta. Ed ora andiamo a Disernia dove il centro storico si abbellisce con nuove targhe toponomassi che sono state realizzate dai ragazzi della cooperativa Lai Lavoro Anch'io che le hanno consegnate direttamente al commissario Saladino. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Non è stata semplicemente una visita per conoscere le tante attività svolte dai ragazzi della cooperativa Lai Lavoro Anch'io, ma anche un vero e proprio appuntamento di lavoro. Durante la visita del commissario del comune di Sernia, Vittorio Saladino, sono state infatti consegnate le ultime targhe toponomastiche destinate ad abbellire il centro storico. Il risultato finale è davvero apprezzabile, anche perché hanno un valore aggiunto, rappresentato dall'impegno e dall'entusiasmo messo in campo dagli artisti della fabbrica delle idee di corso risorgimento. Consegniamo le targhe della toponomastica che il comune di Sernia e l'amministrazione Brasello per essere a non del vero, con l'assessore sposato ci hanno ordinato e abbiamo concluso questa fornitura di 23 tabelle che andranno dalla zona del centro storico sino ad arrivare su all'altezza di piazza Iadopi. Lì verranno posizionate queste tabelle che i ragazzi hanno impiegato qualche mese per poterle realizzare, però adesso sono terminate e quindi era giusto consegnarle al comune e per far conoscere anche una realtà del territorio molto particolare come quella della cooperativa Lai. Il commissario, oltre a dirsi piacevolmente sorpreso da questa realtà, ha espresso apprezzamento anche per il lavoro svolto. È una delle realtà che mi ha sorpreso, intanto sono venuto con piacere, anche perché l'attività che loro svolgono è un'attività meritoria che richiede le capacità della professionalità e l'hanno dimostrato nella realizzazione di questo lavoro che è stato commissionato dalla precedente amministrazione. A me tocca l'onere di retribuire un lavoro fatto veramente bene, non è una somma elevata, anzi approfitto di questa occasione per sottolineare che nella prossima settimana verranno liquidate le somme che non solo l'associazione Lai ha a credito nei nostri confronti, ma anche tutte le altre cooperative sociali finalmente vedranno soddisfatti i loro crediti. Una donazione da Guinness dei primati per la sezione FIDAS di Larino, il volontario Odero Bisacci di origine toscana ma trapiantato a Termoli ha donato il sangue, pensate per la quattrocentesima volta. È avvenuto al centro trasfusionale dell'ospedale Vietri diretto dal dottor Guerino Trevisonno, fondatore dell'associazione regionale. Alla donazione è seguita una festa con gli iscritti il Vescovo De Luca, il sindaco di Larino Notarangelo, il presidente della FIDAS Molise Franco Vituli e il responsabile della sezione locale Sandro D'Agostino che a sua volta ha donato il sangue. Tra gli ospiti c'era anche Giobba Vota, nell'occasione l'artista sosia di Elvis Presley ha annunciato un concerto di beneficenza per il 5 dicembre a Termoli. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto all'associazione Brizio che si interessa della prevenzione dei tumori e dell'assistenza alle famiglie dei malati. Ed è iniziato nella sede della Fondazione Potito, istituto di ricerca, il ciclo di seminari sull'oncologia organizzato dalla rete Onlus, associazione di volontariato con la stessa fondazione. I falsi miti della prevenzione oncologica è stato il tema del primo incontro. Sentiamo Antonio Di Lanno. Licia Fatica Visaggio, presidente della rete, è sicuramente un meritorio da parte vostra per aver organizzato questa serie di incontri. Sì, abbiamo cercato come prima uscita di occuparci di prevenzione. Questi sono quattro incontri che avranno cadenza quindicinale. Stasera abbiamo il seminario inaugurale. Fra 15 giorni avremo un altro seminario tenuto dal professore di sociologia dell'Università del Molise e dal dottor Amedeo Caruso e riguarderà la socializzazione dei malati oncologici. Mercoledì della prevenzione presso la Fondazione Potito, qui a Campobasso, abbiamo insieme a noi il professore Alfredo Marinelli dell'Università Federico II di Napoli. Professore, è molto importante distinguere la previsione di una malattia oncologica dalla prevenzione. Assolutamente sì, innanzitutto complimenti a tutti i cittadini che hanno voluto questa iniziativa e che si stanno organizzando socialmente per essere più vicini a chi? Soprattutto agli oncologi che non devono essere lasciati assolutamente soli in questa battaglia che quotidianamente affrontano e hanno nei confronti non solo della malattia ma nell'assistenza delle persone. Perché la persona assistita, quella che è oggi al centro dell'attenzione e dell'esercizio della professione medica è una persona il cui profilo giuridico è dato dalla sommazione dei diritti del portatore di patologia più i diritti della persona sana. Per questa ragione è fondamentale avere le idee chiare sulla differenza tra la previsione di malattia che si fa con alcune indagini anticipate e la prevenzione, l'eliminazione di molti dei fattori di rischio come anche dai messaggi dei mass media negli ultimi giorni ma con dei distinguo importanti. I distinguo hanno a che fare con un fatto, con una condizione che gli oncologi conoscono molto bene i principi di cancerogenicità che negli ultimi giorni sono stati agganciati al costume di consumare gli alimenti cucinati o trattati in certi modi. Chi ha letto la documentazione ufficiale, originale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in questo sono gli oncologi negli ultimi giorni sono i migliori comunicatori per i cittadini sensibili a questo problema delle problematiche e di come affrontarle. Quindi per prevenire bisogna avere un rapporto ottimo con queste strutture di oncologia? Assolutamente sì, gli anglosassoni la chiamano compliance, cioè una grande adessione tra le strutture di oncologia lì sul territorio, lì dove ci sono, con i loro medici perché loro quotidianamente affrontano questa battaglia. E tra pochi giorni si celebrerà la festa di Halloween, famosa festa di origini irlandesi, si celebrerà anche in Molise, vediamo come, Gianni Bruno. La ricorrenza di Halloween non può non essere festeggiata pure in Molise, si appresta a farlo il blu note di Campobasso nel prossimo fine settimana. Con il sabato notte di Halloween riprenderà pure il ricco cartellone invernale del noto locale del capoluogo. Tanti gli eventi già programmati si andrà dai live molto graditi dal pubblico della notte fino agli eventi dettati da occasioni di festa in una stagione fredda che si annuncia lunga, come è noto dalle nostre parti. L'atmosfera di Halloween fa pensare a travestimenti riconducibili alla festa che ha avuto la sua consacrazione negli Stati Uniti. Al blu note non si esclude di vedere nel prossimo weekend streghe o zucche intagliate, alcuni tra gli emblemi più celebri di Halloween. L'ingresso sarà gratuito entro le ore 23 e sarà pure attivo il servizio navetta dal centro cittadino fino al locale. L'agenda del blu note si fa sempre più fitta, sono tanti gli ospiti già contattati e bloccati per la stagione appena iniziata. Già il 21 novembre da segnare un grande evento live rientrante nel Tour dei Verdena. Si tratta di Endgadence, volume 2 Tour Club, un viaggio che toccherà tutta la penisola e che sarà al blu note nella data per il Molise appunto nel prossimo 21 novembre. Sta riscuotendo un successo imponente il venerdì del blu note dedicato prettamente agli amanti dei balli latinoamericani. Nelle ultime settimane stanno accorrendo tanti appassionati del genere anche da regioni circostanti, dalla Puglia alla Campania, segnale di un movimento in progressiva crescita. Proprio questo venerdì il blu note presenterà il Mitierra Latin Festival di Cosenza che vedrà anche la partecipazione del gruppo Saoco di Campobasso, un team di ballerini che avrà il compito di rappresentare la nostra regione. Tra i prossimi eventi del venerdì latino del blu note anche l'arrivo nel capoluogo dell'avvenente Barbara Imenez e dei suoi Cuban Flex, ospiti di un certo calibro nel panorama internazionale del genere latino. Saranno a Campobasso il prossimo 6 novembre. Per proseguire poi il 20 novembre con il gruppo internazionale Gruppo Extra, un prestigioso team di baciata in esclusiva in Molise, nel loro tour europeo. Avanti tutta con la stagione invernale al blu note di Campobasso che si annuncia davvero scoppiettante a partire già da sabato prossimo. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci preferito. A tutti voi una cordiale buonanotte.